Pista ciclopedonale a Frosinone. Continua la polemica. A protestare questa volta contro la realizzazione sono i residenti di via Fontana Unica. Sono scesi in strada alzando la voce, dito puntato sul troppo traffico, con conseguente innalzamento delle polveri sottili, contro la riduzione della carreggiata e contro l'azzeramento di spazi per parcheggiare le auto. Problematiche e documentate dai residenti, 400 famiglie di cui molti di loro hanno scattato foto, girato dei video con i telefonini, in particolare sulla recensione di inizio lavori. Tutto è cominciato 12 mesi fa, era luglio dell'anno scorso, quando sono iniziati i primi cambiamenti della viabilità. Proprio via Fontana Unica, da strada a doppio senso di circolazione, è stata trasformata a senso unico, diventando così l'unica strada interna da chi proviene dalla stazione ferroviaria per raggiungere via Aldomoro o via Marittima, aumentando così di molto la presenza dei veicoli. La riduzione della carreggiata, tra l'altro, provoca difficoltà anche per i mezzi di soccorso, come le ambulanze che hanno problemi nel fermarsi vicino al luogo di intervento. I cittadini protestano contro gli amministratori comunali, chiedendo di bloccare la pista ciclopedonale e di ripristinare la vecchia circolazione stradale. Intanto sono state raccolte le firme degli abitanti di via Fontana Unica per presentare in tempi brevi un esposto alla Procura della Repubblica di Frosinone, per consentire agli agenti della Polizia di Stato e di quella locale di verificare se sussisse su quel tratto la sicurezza stradale e se siano state rispettate tutte le norme.